Grazie a tutti 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 Lo fate due a testa di questo lavoro qua Vai Le fate due a testa Qua sono quattro Sveglia Sono quattro Sveglia Lo fate due a testa Poi vi fermate Su bene le ginocchia Sono quattro Vai 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 E allora chi è la fatta non parta Vai 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 Per la seconda volta Vai 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 Si muovono Vai 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 Grazie. 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 Vai. 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 Quando avete finito cinque toccate di testa. Bene. Ma stacchiamo. Diamo bene la palla con le mani. Diamo bene la palla con le mani. Facciamo qua. Bene. Stacchiamoci. Aiutiamoci. Aiutiamoci con le mani. Ma anche chi dà la palla, la dia bene. Che non vedo staccare la gente. Non potete staccare sul posto. Dai. Vai. Guarda. Palla. Stocchiamo con la tecnica che vogliamo. Stacchiamo. Tutta due toni, eh. Ma già stavano con un piede. Stacchiamo lì. Chiaro? Chiaro? Stacchiamo. 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 la palla va andata sulla forza la strada l'importante è che il movimento della gamba poi tu già stai in forza ma ecco la stai allungando guarda 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 ho detto a due to ho detto a due to dai, stop pam, pam, pam trappa d'osso dai, dai, dai dai, dai dai, dai 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 stop dai stop 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 Sì, 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 più veloce, più veloce, più veloce, eccolo qua. Sì, sì, più veloce, più veloce, più veloce, più veloce, per bene, per bene, movimenti, secondi, gentimenti, state dietro. Sì, la palla sulla torta, dai, raga, dai, destro, sinistro, sinistro, passaggio con il sinistro. Visto, 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 v Ragazzi, se la facciamo, dovremmo chiamare un geometra e ci dà le coordinate, scappa di là, dagliela bene la palla, se no non la puoi girare, controllo e scappo via, eccola qua, controllo e scappa di là, metti la lunga dalla parte di là, di là, eccola qua, scappa via Quindi hanno fatto gol? Chi ha vincito? Gli ultimi tre che rimangono? Balla, gioca da un Oh, grande portero Oh, si vuoi, ti pisaste Ok, va, va Oye, vine Correte Correte Oh, grande portero Eccola qua Eccola qua Eccola qua Eccola qua Stasera mi si va solo di mano Mi sa che il bacio se la chiamò Dai, oh, ebbiamo tirare Cazzo, Gabri, cazzo, sono portieri Va, sono portieri Ti manca Oh, chi è rimasto? Dai, dai, dai Dai, muovete 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 Di questo campo Muovete Di prima, di prima Puoi potente Puoi potente Puoi potente Puoi potente Maschina Dai Di prima Dai, lasciamo, la lasciamo Davi, dai, dai Da Oh Dottia doccia, vai doccia vai a girare vai a girare vai a girare doccia non lo so invece non lo so non lo hai pensato andiamo a Bamsi qua prendiamo le due eh bravo Genova oh dai dai vai a 1 Genova io punto su Genova non posso non c'è bravo alta opla eccolo eccolo ero lì che dormivo io mi posso svegliare con voi come tiri? come tiri? aiaiaiai no 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 ti vado a fare lo scavetto come Maspero o la tira forte dei mani dai e ancora si strozza guarda osserva il portiere bene guarda dove può essere debole doccia 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 doccia